Non ha deluso la finale per decretare l'altra rappresentante delle VCO alla fase regionale del calcio a 7. A fare compagnia al Masera United che aveva vinto la classifica a fair play sarà il regno di Napoli. La squadra allenata da Mister Cassani ha avuto ragione dopo un'autentica battaglia del Barisotta. La sfida, giocata nella splendida cornice del Curotti, si è risolta solamente ai calci di rigore dopo che regolamentari e supplementari si erano chiusi su 4-4 con doppiette per Mancini e Tortora. Ai rigori ha avuto ragione la formazione del presidente esposito per 8-7. Nemmeno però il tempo di festeggiare che è già tempo di tornare in campo per il regno di Napoli. Domani alle 21 a San Francesco il primo match del quadrangolare regionale che vedrà posti Romani e compagni al Masera United. Le altre due squadre inserite nel raggruppamento sono nel comitato di Torino. Finale anche nel calcio a 5, anche qui per scegliere la seconda nostra squadra ai regionali, a risultare il Divin Porcello. Al via anche la fase di play-off per il titolo provinciale. A passare il turno sono state la Floricoltura Saletti, 5-4 il Bresino, il Modesto Domo che ha piegato i rigori da Stresiana 5-3, il Luzogno che ha avuto ragione delle Zampine Orna e la Cordiglia Randina che ha superato 3-1 il Porto Istrobaso. Disco verde anche per Arcadius ha i rigori sulla Robaducia, per il Rumianca sul Barcelona e per il Celtic Domo sul Sant'Anna. Il Massino Visconti ha eliminato a sorpresa il Divin Porcello, il Circolo Miralago-Ghifa e Stromesso il Cutrone-Estintori, mentre Paruzzarello e Quarna hanno piegato victory tra i gaggio nel prossimo weekend del secondo turno dei play-off.